a Sanremo con Radio Pico tanti ospiti con noi da Sanremo oggi è il turno di Dargen D'Amico ciao Dargen benvenuto grazie ciao grazie per l'ospitalità come stai bene bene devo dire bene voi come state ma guarda tutto ok stiamo seguendo ovviamente la Kermess e ci sta piacendo tanto e per la prima volta ti abbiamo visto sul palco di Sanremo tu che sei un cantautore un dj un produttore e anche uno che ha avuto collaborazioni importanti al festival perché tua e glicine dell'anno scorso di Noemi tua la canzone che è arrivata al secondo posto chiamami per nome questa volta però ti sei detto è il momento di salire sul palco dell'Ariston che cosa ti ha spinto Dargen ma sono stato praticamente costretto da Edwin e Gianluigi che sono coautori di questo brano con Bonomo insieme a me e mi hanno costretto raccontandomi che hanno quest'ottobre avevano delle visioni mi vedevano sul palco e io dopo essermi sincerato che fossero sobri ho inviato il brano ad Amadeus è quindi andata bene comunque se oggi ti vediamo lì no ma dimmi una cosa bene per me forse non per i telespettatori non buttarti giù Dargen la tua canzone è molto molto carina e ha avuto un riscontro ottimo e devo dire ci sta divertendo tanto perché comunque poi il divertimento è un po alla base della tua canzone poi ne parleremo però io volevo chiederti se da cantautore è più facile scrivere per se stessi o per gli altri cioè come scindi le due cose? Eh sono due cose molto diverse tu hai citato Glicine per esempio di Noemi e praticamente non ho più ricordi di quando ho scritto quel pezzo sono ero quasi forse in uno in uno stato di estasi invece per quello che riguarda i miei brani non non ti nascondo che sono proprio degli sfoghi liberatori in questo caso nel brano io ho buttato dentro sensazioni accumulate negli ultimi due anni e quindi è proprio una ricerca di quello che serve per tornare ad agganciarsi alla realtà uscire di casa non solo fisicamente ma anche con la testa quindi praticamente è un brano che è uscito da solo dalle tue mani prima dalla tua testa e poi dalle tue mani perché dove si balla intanto è un brano carichissimo racconta quello che è il momento che ormai stiamo vivendo che non è neanche più solo un momento ormai è un bel periodo perché sono due anni ormai che siamo costretti in un certo senso a stare a casa nostra o comunque a riunirci il meno possibile e dici delle cose che ci riguardano tutti prendo delle frasi così a caso del tipo senza live con il paio sul divano oppure brutta fine le mascherine tutti sappiamo di che cosa si tratta quindi tu hai portato il covid la pandemia anche un po lockdown a sanremo però come tutti noi hai tantissima voglia di ricominciare e ce lo stai dimostrando sì sì ho c'è la mia la mia volontà non saputo il brano sarebbe andato a sanremo quindi nel momento della scrittura del testo di quei passaggi non non immaginavo che finissero su quel palco venissero ripreso in questo modo però la necessità mia era appunto quella di tornare a muovermi a restare vigile tornare a fare dei progetti a pensare come fare per andare da un punto a un punto b che poi è come è voluto l'uomo è vero è vero pensando c'è proprio così comunque noi ti ringraziamo perché diciamo che questa tua canzone diventerà un po l'inno di tutti noi nel senso che tutti quanti abbiamo voglia di tornare a uscire ballare divertirci e quindi sicuramente diventerà un trend e una canzone che ci apparterrà in un certo senso ci spostiamo di argomento e parliamo di una cosa un pochino diversa certo sempre di musica però sappiamo che tu porterai una canzone molto lontana in realtà dal tuo genere nella serata delle cover di che cosa si tratta d'Argen della bambola la bambola di patti bravo assolutamente anche se questa versione è molto lontana da quella di patti bravo metto le mani avanti sia ritmicamente che a livello di interpretazione come potrai facilmente intuire ho cercato di dare una mia lettura del brano e del racconto della narrazione che c'è all'interno del brano dopo aver chiesto il permesso agli autori ho inserito anche una piccola strofa verso non ti spoiler troppo non sveliamo troppo no però come mai proprio questa canzone è una canzone che ti appartiene o è una canzone che soltanto ti piace è una canzone che mi piace parecchio ma cercavo soprattutto quando c'era da scegliere una cover cercavo un brano che mi desse lo spazio sufficiente per poter raccontare dal mio punto di vista quello che raccontavano nel brano nel 69 la possibilità di raccontarlo adesso nel 2021 2022 quindi ho scelto il brano anche per avere un'occasione di intervenire di prendermi un po di responsabilità rispetto alla canzone e tra l'altro è un brano che si è stato scritto tanti anni fa ma potrebbe essere comunque attualissimo si parla di una tematica comunque sempre molto attuale e io vorrei chiudere questa nostra chiacchierata molto piacevole chiedendoti un po quali sono i tuoi progetti futuri se si parla dell'album del tour insomma che cosa ti aspetti e che cosa ti aspetta il mio progetto è effettivo quello di finire il festival arrivare senza senza limitazioni perché cercando di non prendere il covid in tutti i modi per poter arrivare alla serata di sabato e se riuscissi a fare questo sarei soddisfatto quindi per te si vive giorno per giorno insomma assolutamente ecco non mettiamo troppi limiti alla provvidenza e vediamo che cosa accadrà anche nell'immediato mi piace molto è questa tua filosofia di vita mi piace molto anche l'atteggiamento che hai che hai avuto sul palco di non so come definirlo molto scialla ecco una cosa del genere nel senso sembrava quasi che tu come molti diciamo della giovane generazione non avessi paura assolutamente del palcoscenico dell'Ariston che notoriamente invece mette un po di timore agli artisti. No no il timore c'era forse non si è notato il timore c'era probabilmente era maggiore la sensazione liberatoria di tornare su un palco perché non non salivo su un palco da due anni e mezzo e forse è stato più il momento di gioia incontrollata ma c'era il timore c'era quando sali le scale c'è un momento di forte pressione poi sotto io avevo i maneskin puoi capire che entravi dopo i maneskin. Certo non è cosa da tutti insomma sei stato molto bravo comunque fin troppo rilassato nel senso buono del termine ecco hai avuto hai avuto un modo di porti secondo me davvero molto tranquillo considerando il tipo di spettacolo e il tipo di band che si è esibita anche prima di te perché giustamente è proprio quello che stavi dicendo commetto su di loro io per questo Sanremo. Ah sì vinceranno i maneskin allora? E sono i più forti sono i più forti. Bene grandissimi io ti faccio un grande in bocca al lupo Darjen ti ringrazio perché è stato molto piacevole parlare con te e ti auguro buonissima giornata. Grazie grazie a te. Ciao a presto a presto. Ciao ciao A Sanremo con Radio Pico